dai raccontami tutto mamma portami acqua portami le mele e portami la tablet dov'è il tuo tablet? in camera mia Amelia! cosa? cos'è sta roba? ah sì, metti a posto ma io sono incinta e io sono bambina sì, davvero? bello vuoi sapere cosa vuol dire essere incinta? facile è come tenere un palloncino no, non un palloncino un'anguria ah, palloncino e anguria che c'entra? ecco adesso tu sei mamma incinta e io faccio Emily voglio acqua subito sì, ciao Lily Emily è un po' impegnata grazie grazie sì, sì anche la mela però rossa sì, sì adesso sta facendo un po' di compiti adesso ti richiama dopo va bene? oh ma l'acqua del rubinetto? ehm sì ma io non bevo l'acqua del rubinetto io voglio il naturale ma guarda cosa mi hai portato? tutta mela marcia un'altra mamma voglio bere veloce grazie e anche a mangiare? qualcosa tolge se sfo eh visto che ho merenda devo farla no non mi piace questo schifo vuole cioccolato? allora se oggi non faccio compiti chissà se domani maestra mi sgrida ragazzi votate sotto secondo voi se non faccio compiti mi sgrida maestra o non mi sgrida? no mi sgrida mamma ma non mi sgrida che buona mi sono dimenticata che lei è piccola e non arriva lì dove c'è un cioccolatino cioccolatini voglio cioccolatini oh miei preferite al set no sono ancora babbo natali basta mela mamma koca porta mi per favore tablet tablet mamma devo chukare roblox ragazzi a chi piace cioccolatino mettete like sotto il video ma sei scaricato mamma portami il caricatore ma perché non vai scaricato mentre ero a scuola capisci niente ma mi stanno aspettando ragazzi dovevano collegarsi su roblox ah ti ricordi i cubi? quelli che ho lasciato tutti per terra mhm ma li metti a posto vero? ti amo peggio di camminare con papà cosa ha fatto melì? no sto clown che pauroso no vai 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 no mamma tu sei in dieta no no non ti ricordi cosa ti ha detto dottore controllare il peso oh oh ah 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 voglio dormire allora hai finito si allora facciamo da ricicare cosa ma lei sta scherzando aiuto no 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 ti prego mamma allora hai messo tutta posta io non ne posso più va bene andiamo a mettere a posta tutto insieme ti aiuto io vieni ma la pancia con la pancia con la pancia comunque ragazzi mettete like sotto questo video e se vi siete persi i video di ieri cliccate qui e se volete vedere altri video divertenti come questo cliccate qui e ciao iscrivetevi al canale e io vado con sta pancia grazie 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 grazie